dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli vi saranno segni nel sole nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria quando cominceranno ad accadere queste cose risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina state attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo grazie a tutti Grazie a tutti.